Buona Pasqua, buona Pasqua a tutti voi, grazie, ciao. Grazie al maestro Vipo Franco. Buona Pasqua a voi, Stefano Chiodaroli è già pronto, stiamo parlando delle colombe, tutti gusti, essenzialmente la colomba al gusto di colomba. Chiaro. Colombe al mertillo, colombe alla senape, colombe alla anduia, sto lavorando sulla colombe alla anduia. Sta nascendo un brand ragazzi, siamo rosa. Sta nascendo una strage colombe alla anduia, vediamo. Vediamo dopo Pasquetta cosa succederà, però come nella migliore tradizione calabrese, la lasciamo fare in cucina alle donne, quindi andiamo a chiamare la panettiera. che provvederà a tutto questo. Un attimo solo che la chiamo io. PIEENE! Adesso arriva. Buona Pasqua, Stefano Chiodaroli. Agli amici di Gioia Video Channel. Ma voi siete di Video Channel. È una gioia essere qui. Luca Bulgarelli, chi sei? Luca Bulgarelli, io sono proprio di sopposto. Questo è l'Italian Trio. Un saluto agli amici di Video Channel. Video Gioia, ciao. Attenzione, si rischia lo scambio di identità. Gioia Video Channel. Ciao ragazzi. Quindi volete fare... Buona Pasqua, ciao. E allora, da Pasqua a Pasqua, in questa festività, sta diventando un mi piacevole abitudine di trovare i nostri amici Modena City Rambles. Ciao ragazzi. Ciao. Sono bene? E sono proprio per chiare di sostenere Gioia Video Channel. Fatelo. Grande. Ciao da Modena City. Grande. Tanti auguri di buona Pasqua a voi. A tutti. Tanti auguri di buona Pasqua. E a tutti i miei anche. Auguri. Chiaro. Salve a tutti i telespettatori. Noi siamo qui per farvi gli auguri di una vieta Pasqua. Serena. Serena. di pace e di serenità. Mangiate. Per Pasqua mangiate, però pensate anche a me. Bevete. Bevete. Mangiate, però pensate anche a me. Però senza esagerare, sostenete questa nuova realtà di Video Gioia Channel. Di Gioia. Gioia. Video Channel. Un po' underground, ma tra poco sarà meno underground. Perché diventerà più proletaria. In seguito. E meno underground passerà alla sopra ground. Più ground, meno stream. Meno main, più smart. Vai. Grandi ragazzi. E noi vi auguriamo buona Pasqua e in bocca al lupo. Ciao. Ciao a tutti. Buona Pasqua. Buona Pasqua a voi e a tutti gli amici che seguono Gioia Video Channel. Questi cari ragazzi fanno chilometri, immaginano chilometri in lungo e in largo per seguire la musica indipendente italiana e internazionale. Ed è una cosa che dovrebbe essere ad esempio per tutte le persone che sono appassionate di musica. Perché un semplice like non serve a un cacchio. Quindi una buona Pasqua, diciamo così, musicale. Andate a vedere i concerti a Pasqua, visto che non si lavora. Grazie agli amici di Gioia Video Channel. Auguri a tutti. Magari se proprio non andate in chiesa per i canti gregoriani, dedicatevi anche a suonare sul vostro stesso corpo, a festeggiare in modo così alternativo. Come vi viene? Magari se vi va bene riuscite a suonare anche con corpi altrui. Non sono i vostri, quindi se vi va bene, buona Pasqua, suonante. Assolutamente. Grazie agli sono. Auguri, auguri a tutti. Un augurio di buona Pasqua a Gioia Video Channel. Ce l'abbiamo fatta. Guardate che regalo nell'uovo di Pasqua. Pensate che bel regalo per Gioia Video Channel. È il mio canale preferito, tra l'altro non l'ho mai sentito nominare, però è già il mio canale preferito. Tanti auguri in assoluto, da qui fino all'eternità. E noi ricambiamo, grazie. Un abbraccio. Prego. Ciao.